Manager ma anche uomo di sport. Questo era Mario Fertonani, ex presidente italiano della casa farmaceutica Glaxo ed ex dirigente di Scaligera Basket, che si è spento sabato 13 gennaio all'età di 85 anni, dopo una lunga malattia. Questa mattina si sono svolti i funerali nella chiesa di San Nicolò all'Arena, dove molte persone si sono riunite per porgere un ultimo saluto al manager Mantovano. Fertonani era sempre stato amante della pallacanestro, sport che aveva praticato in prima persona negli anni 60. Ed è grazie a questa passione che, dopo essere diventato il primo presidente italiano della casa farmaceutica britannica Glaxo, ora GlaxoSmithKline, negli anni 80 aveva portato il marchio Citrusil a sponsorizzare la squadra veronese. Da allora Scaligera Basket era stata presa sotto l'ala del manager, mantovano di nascita ma veronese d'adozione, che tra il 1983 e il 1991 aveva portato la squadra giallo-blu a macinare successi, fino ad arrivare al debutto in A1 e alla vittoria della Coppa Italia. Uniti al cordoglio per la scomparsa di Fertonani, anche Gianluigi Pedrollo, presidente di Scaligera Basket, e la squadra stessa, che ha voluto ricordare l'ex dirigente con un minuto di silenzio prima della gara di domenica scorsa.